È stata una grandissima emozione anche questa vittoria perché, come ogni vittoria, non è mai semplice. Triunfare il Poi sul Mont Ventoux è qualcosa di speciale perché ha una salita storica ed epica del ciclismo, soprattutto per quello femminile, in quanto è stata la prima volta che è stata scalata questa montagna. Sono molto contenta perché per me è stato un ottimo test dopo un periodo di allenamenti intensi, in vista dei prossimi obiettivi. Infatti prossimamente sarò ai campionati italiani su strada e a cronometro e invece a luglio mi troverete al Giro d'Italia, al Tour de France.